Impegnativo, faticoso, poi? Importante? Molto. A che serve? Anche nell'istruzione dell'allenamento. L'istruzione abbiamo detto anche, no? L'apprendimento, vero? Sì, perché anche tutti i mister ci... E secondo voi per rendere un allenamento così, che tipo di atteggiamento dobbiamo avere? Serio? Concentrato. Concentrazione? A volte qualche battuto c'è, a volte. Bisogna anche crederci. Sì. 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 Sì.